Dopo aver esaminato le persone e quindi i problemi del pubblico impiego, dobbiamo ora fermare l'attenzione sopra la attività della pubblica amministrazione. Quando la pubblica amministrazione agisce quando amministra. Buongiorno professore, cosa indica in termini amministrare? Il termine amministrare indica nello stesso nome latino ad amministrare, da cui la parola minister, ministro, l'esecuzione pratica, concreta delle regole generali che sono espresse nelle leggi. Insomma, amministrare indica la attività di governo. E se noi pensiamo alla parola amministrazione, vediamo che esso è il motore sociale di ogni collettività. Non vi potrebbe esistere una collettività se non ci fosse un'organizzazione ed una attività amministrativa. Quindi l'attività amministrativa è composta da atti o provvedimenti amministrativi. In cosa consiste l'atto o provvedimento amministrativo? L'atto o provvedimento amministrativo è previsto nell'articolo 113 della Costituzione. Ma cosa è l'atto amministrativo? Lo ripeteremo, ma diciamo fin da adesso che consiste in una dichiarazione di volontà o di giudizio o di scienza che è posta in essere da un organo della pubblica amministrazione. Bisogna aggiungere, per approfondire questo aspetto, che in passato la precedente dottrina aveva considerato gli atti amministrativi in modo negativo, cioè quell'atto che non aveva la forma della legge e né della sentenza. Ma questa indicazione non era sufficiente perché si tratta di vedere cosa è in positivo l'atto amministrativo e tant'è vero che oggi si cerca di mettere in luce l'aspetto funzionale, cioè lo scopo dell'attività, il fine pubblico specifico con cui l'atto tende. La pubblica amministrazione agisce, opera attraverso atti amministrativi e ogni atto amministrativo è come un piccolo mondo a sé, ha una serie di elementi essenziali, costitutivi, necessari per la sua esistenza e anche altri elementi che possono esservi o non esservi, chiamati accidentali e che poi vedremo. Quindi l'atto amministrativo, abbiamo detto, è una dichiarazione di volontà della pubblica amministrazione o anche di accertamento, ma il punto principale è che ogni atto amministrativo deve avere alcuni elementi essenziali. Se non vi sono questi elementi essenziali, se ne manca uno di questi elementi essenziali, l'atto amministrativo non c'è, cade. Quali sono gli elementi essenziali? Elenchiamoli e poi li analizzeremo. La capacità del soggetto, la dichiarazione, il contenuto, la causa, la forma e la motivazione. Consideriamo la capacità del soggetto. Il soggetto amministrativo che emana l'atto deve avere la capacità, la competenza ad emanarlo. Se l'atto è emanato da un soggetto che non è un organo della pubblica amministrazione, non ci troviamo di fronte ad un atto amministrativo. Chi è il funzionario di fatto? Bisogna però precisare che vi possono essere delle ipotesi del cosiddetto funzionario di fatto, cioè un soggetto privato che svolge di fatto una funzione pubblica. Vi possono essere delle ipotesi in cui un privato interviene quasi in favore della pubblica amministrazione. Pensiamo le attività che fa volontariamente un privato in occasione di catastrofi, inondazioni, rotture di dighe e che si prodiga per cercare di dare un aiuto o per disciplinare una situazione. Questa attività svolta da un privato funzionario di fatto può essere qualificata atto amministrativo soltanto se la legge lo prevede, proprio per queste situazioni particolari. Oltre alla capacità del soggetto, l'elemento essenziale è la dichiarazione, cioè l'atto con cui la pubblica amministrazione esterna rende esplicita la sua volontà. Anche il silenzio è una dichiarazione? Si potrebbe dire che il silenzio di per sé non costituisce una dichiarazione. Dicevano gli antichi che chi tace non consente e non nega. La situazione attuale è che la legge stabilisce quando il silenzio della pubblica amministrazione può avere un significato negativo o positivo. Quindi il silenzio della pubblica amministrazione di per sé non costituisce dichiarazione, ma le leggi possono attribuire in determinati casi che la dichiarazione, che questo silenzio, costituisca una dichiarazione o negativa o positiva. Sulla dichiarazione intervengono altri problemi, perché fin quando la dichiarazione è emessa da una persona singola non dovrebbero sorgere dubbi. Quando la dichiarazione è espressione di un organo collegiale, quindi vi sono più persone, la dichiarazione deve essere il risultato della volontà del collegio e in questo caso le leggi stabiliscono delle regole per il numero necessario in modo che questa volontà sia coagulata in una dichiarazione. Le leggi stabiliscono delle disposizioni per il numero legale, chiamato anche quorum. Quorum significa numero dei quali, quindi è indispensabile quando vi è un organo collegiale che si tenga presente il numero legale sia per le persone che devono essere presenti perché l'assemblea sia validamente costituita, quorum strutturale che indica proprio la struttura di questa assemblea, sia il quorum funzionale, cioè il numero dei componenti indispensabili per la validità della deliberazione. Ripeto, quindi con il termine quorum si indica il numero necessario perché la volontà del collegio possa coagularsi in una dichiarazione. Il quorum è chiamato strutturale quando è stabilito il numero dei componenti che devono essere presenti perché l'assemblea sia validamente costituita. Il quorum funzionale indica il numero dei componenti indispensabile perché la deliberazione sia valida. Vi sono ancora altri problemi perché molte volte la dichiarazione è l'espressione di più organi e in questo caso si parla di atto collettivo. Le volontà si fondono assieme o sono considerate quindi una sola volontà. Questo nell'atto collettivo. Abbiamo poi altre ipotesi dell'atto complesso, dell'accordo, del concerto. In tutti questi casi, atto complesso, accordo, concerto, le volontà rimangono distinte e concorrono tutte al risultato finale dell'atto amministrativo. Vi è anche un'altra ipotesi che si chiama intesa dove da parte di un organo si esprime un accordo di massima, un benestare, senza assumersi la responsabilità dell'atto che segue all'intesa. Comunque, il problema principale è quello che nell'atto collettivo tutte le volontà si fondono in una volontà unica. Nelle altre ipotesi, atto complesso, accordo, il concerto, le volontà rimangono distinte, concorrono tutte però al risultato finale. Nell'intesa c'è questo accordo di massima per una deliberazione successiva. Contenuto della dichiarazione. Potrebbe sembrare superflua una cosa del genere, ma in realtà il contenuto e l'oggetto della dichiarazione di volontà deve essere preciso e determinato. Se vi è un atto amministrativo dove si indica un contenuto evanescente, l'atto amministrativo cade, non è costituito. Delicato è il problema di quest'altro elemento chiamato causa. La causa è lo scopo tipico costante rivolto alla realizzazione di un pubblico interesse che la legge stabilisce per quel determinato atto. La causa esprime quindi la legittimità dell'atto, perché l'atto amministrativo deve perseguire i fini determinati dalla legge. La causa non deve essere confusa con i motivi di un atto. I motivi per cui un atto amministrativo è emanata possono essere più diversi. Invece la causa è tipica per gli atti nella stessa categoria. Facciamo un esempio. Espropriazione di un bene. La causa è costituita dal trasferimento della proprietà dal privato alla pubblica amministrazione per una finalità pubblica, per l'esecuzione di opere pubbliche. I motivi della espropriazione possono essere vari. Si espropria il terreno di un privato per la costruzione di strade, di ponti e di altre cose. Quindi la causa è proprio tipica e indica lo scopo tipico costante rivolto alla realizzazione di un pubblico interesse. La mancanza totale o parziale della causa comporta un vizio del lato amministrativo, specialmente quello che va sotto il nome di eccesso di potere che esamineremo. Altro aspetto importante ed elemento essenziale del lato amministrativo è la forma. La forma è la veste giuridica attraverso la quale si esprime l'atto amministrativo e sono le singole leggi che stabiliscono quale deve essere la forma di determinati atti. È la legge che stabilisce che certi atti amministrativi devono avere forma scritta. È la legge che stabilisce che per altri atti amministrativi, ad esempio ordini di polizia, può essere stabilita anche la forma orale. Quindi determinati ordini possono essere stabiliti oralmente. Di più, vi sono degli atti amministrativi che sono espressi attraverso un simbolo, in forma simbolica, il cui significato è conosciuto da tutti. Pensiamo per esempio alle segnalazioni relative al traffico stradale effettuati dagli agenti addetti alla circolazione con determinati gesti, oppure manifestate dalle luci di apparecchi luminosi automatici, il rosso, il verde, il giallo, eccetera. Quindi c'è anche la forma simbolica. La forma poi, questa veste giuridica, riguarda anche il tipo di atto. Per esempio, gli atti del capo dello Stato sono emanati con la forma di decreto. Altri atti, un organo consultivo, sono emanati attraverso il parere. La deliberazione di un collegio poi viene documentata da un altro atto chiamato verbale, cioè il processo verbale, che poi viene scritto. Insomma, anche la forma ha la sua importanza. In certi casi si afferma che la forma non è una cosa decorativa, è elemento sostanziale, la forma è sostanza. E la forma scritta si traduce anche, in moltissimi casi, nella sottoscrizione, cioè nella firma dell'atto stesso. Sottoscrizione che, anche se essa non è leggibile, molte volte la firma viene fatta in termini abbreviati, quasi una specie di scarabocchio. Però, indipendentemente dalla leggibilità della firma, è necessario che si possa individuare la provenienza dell'atto stesso e l'organo che ha emanato questo atto. Importante, e qui dobbiamo fermare l'attenzione con maggiore parole, è la motivazione dell'atto amministrativo. A cosa è collegata la motivazione dell'atto amministrativo? È un elemento essenziale nuovo, non esisteva negli atti amministrativi del 1800, perché allora si riteneva che gli atti dovessero essere segreti. Oggi, invece, la motivazione è un elemento essenziale che è collegato alla dichiarazione e anche alla forma. Quindi ogni provvedimento amministrativo, ad esclusione degli atti normativi, cioè delle leggi e di quelli a contenuto generale, esempio regolamento, ogni atto amministrativo deve essere motivato. Richiamo anche la legge che stabilisce questa importante regola, che è l'articolo 3 della legge 241 del 1990. Cosa è la motivazione? La motivazione deve essere qualcosa che indica veramente le ragioni. In altre parole, non può consistere in una formula generica o stereotipata. Ci sono stati degli atti amministrativi dove la motivazione era indicata con la formula per ragione di servizio. Questa non è una motivazione, ma anzi, se si esamina bene l'articolo 3 che ho citato prima, si vede che dentro questa norma c'è come un'architettura, perché la motivazione deve indicare, primo, i presupposti di fatto. Secondo, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Terzo, come se fosse una specie di tenaglia, i risultati della istruttoria, cioè della valutazione dell'atto e delle sue finalità. Quindi questi tre elementi molto importanti indicano l'architettura della motivazione che dovrebbe essere proprio trasparente, fa vedere tutti gli aspetti, perché vi sono i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e poi i risultati della istruttoria, cioè dell'atto che viene valutato, che viene istruito. E attraverso la motivazione si è voluta realizzare la trasparenza degli atti amministrativi, che costituisce la necessaria premessa per una buona amministrazione. La motivazione è necessaria per tutti gli atti amministrativi? Si risponde, per gli atti amministrativi che esprimono una volontà della pubblica amministrazione? Sì, però se vi sono degli atti che indicano una mera certificazione, ad esempio un certificato di nascita, la motivazione è ovviamente superflua. Lo stesso vale anche per quegli atti dovuti, cioè quegli atti che la pubblica amministrazione è obbligata a rilasciare. Sulla motivazione conviene anche fare un'altra precisazione, che questo obbligo di motivazione talvolta viene concentrato attraverso una indicazione numerica sulla base di formule e parametri motivati. Pensiamo ad esempio alle valutazioni scolastiche, universitarie o di qualunque livello di scuola, dove la valutazione della preparazione del candidato non è espressa con un giudizio articolato, è espressa con un numero che tutti conoscono, dalla sufficienza dal 6 fino all'ipotetico valutazione massima del 9 o del 10. Ci si domanda, questa indicazione numerica è una motivazione? Si potrebbe obiettare che è soltanto un numero e non indica i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e le risultanze dell'istruttoria. Però per necessità anche di poter assolvere a tutta una serie numerosa di esami scolastici universitari o di pubblici concorsi, la giurisprudenza ha affermato che le indicazioni numeriche sono consentite, purché a quello che è il numero sia correlato un parametro motivato, che si sappia che per esempio con il numero 6 si indica un determinato tipo di preparazione. Alcuni hanno censurato questo aspetto anche valutato dalla giurisprudenza, dicendo che in ogni modo questo non corrisponde alla precisa indicazione dell'articolo 3. È vero, la risposta che viene data è che talvolta sia per i pubblici concorsi, sia per le valutazioni scolastiche, il numero dei candidati è tali che non vi sarebbe il tempo materiale per svolgere per ogni candidato una valutazione espressa in parole secondo le indicazioni dell'articolo 3 della legge 241. Talvolta la giurisprudenza per determinati casi ha aggiunto qualcosa di più, ha detto che in particolari casi la motivazione deve essere adeguata oppure congrua, parola antica che vuol dire proporzionata e quindi più o meno estesa e sviluppata in relazione alle singole ipotesi. Ci sono dei casi in cui la motivazione oltre a quelle indicazioni che abbiamo dato dell'articolo 3 deve essere adeguata, congrua in altre parole, ancora più trasparente di quella che avrebbe dovuto essere. Oltre agli elementi essenziali dell'atto amministrativo, che sono quelli che costituiscono la base, i pilastri dell'atto amministrativo, abbiamo degli elementi accidentali, parola che noi non usiamo molto, la parola accidente indica un elemento che vi può essere o non vi può essere in un determinato atto e che non incide sull'esistenza dell'atto stesso, qualche cosa in più. Quindi gli elementi accidentali dell'atto amministrativo sono gli stessi che si trovano nel diritto privato, nel negozio giuridico, presentano però alcuni aspetti particolari. Quindi gli elementi accidentali sono quelli che vi possono essere e vi possono non essere e sono la condizione, il termine e il modo. Che cosa è la condizione? La condizione è la previsione di un avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi dipende una determinata conseguenza. La condizione può essere sospensiva. Cos'è la condizione sospensiva? L'atto non produce i suoi effetti fino al verificarsi di un determinato evento. Viene sospeso, come se fosse sospeso per aria. Oppure la condizione è risolutiva, l'ipotesi opposta, perché comporta al verificarsi di un determinato evento la risoluzione, pensate alla parola risolutiva, che determina la risoluzione, cioè la cessazione o dell'atto amministrativo o di alcuni aspetti di esso. Ad esempio, viene concesso un determinato contributo fino a un determinato momento, oppure fino a quando sarà emanata una determinata legge, oppure fin quando sarà approvato un particolare provvedimento. Quando questo provvedimento o legge viene approvato, si determina la cessazione o dell'atto amministrativo o del contributo, come nel caso che abbiamo indicato. Abbiamo poi tra il secondo degli elementi accidentali il termine. Termine, termine che anticamente era addirittura un dio, indica un elemento o spaziale ma temporale in questo caso, dal quale decorrono o cessano gli effetti di un atto amministrativo. Quindi il termine indica il momento temporale certo dal quale decorrono o cessano gli effetti di un atto amministrativo. Vi sono anche nei testi scritti ancora delle espressioni latine, che conviene ricordare. Il termine è talora indicato con l'espressione dies a quo, dies giorno dal quale. Quindi giorno dal quale il termine decorre, oppure dies ad quem, cioè giorno nel quale cessano o iniziano gli effetti dell'atto amministrativo. Si usano ancora queste parole antiche per indicare il momento iniziale e il momento di cessazione del termine stesso. Si precisa poi, queste sono regole processuali, che i termini che decorrono o scadono nei giorni festivi sono per disposizione di legge spostati al primo giorno feriale. I termini però sono considerati di due tipi, questo è importante. Quando il termine è considerato perentorio? È considerato termine perentorio quando la legge stabilisce che un certo diritto non può più essere esercitato dopo la data del termine stesso. Pensiamo ad esempio a un ricorso giurisdizionale amministrativo proposto dopo il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento. Il ricorso non si può fare. Oppure si può partecipare a un concorso soltanto se si presenta la domanda entro un certo termine. Se la domanda viene presentata il giorno dopo, il termine era perentorio, la domanda non può essere accolta. Quando il termine è considerato ordinatorio o sollecitatorio? Il termine è considerato ordinatorio, detto anche con parola più precisa, sollecitatorio, quando le leggi non collegano alcuna conseguenza alla decorrenza di esso. È opportuno rispettarlo, ma non vi sono delle conseguenze particolari. Un ultimo elemento accidentale è chiamato anch'esso con parola antica il modo. Questa espressione la si ritrova nel diritto privato, ancora oggi, e il modo è quella clausola che può essere apposta ai negozi a titolo gratuito e che limita il vantaggio economico del beneficiario. Quindi vi possono essere degli accordi, dei negozi giuridici a titolo gratuito, a condizione che è una clausola che è molto vicina all'elemento della condizione che abbiamo visto prima. Però questa clausola nel diritto privato vale soltanto per i negozi a titolo gratuito. Vediamo nel diritto amministrativo. Nel diritto amministrativo le clausole modali possono essere apposte ad un atto soltanto quando la legge lo prevede, facciamo un esempio chiaramente indicativo, la patente automobilistica e l'uso degli occhiali per il guidatore che ha una determinata minore capacità visiva. Questo è il modo che è collegato all'atto amministrativo di concessione della patente automobilistica con questo modo. Gli elementi accidentali di cui stiamo parlando prima si possono applicare soltanto agli atti amministrativi negoziali, quelli che sono espressione di volontà, perché i cosiddetti meri atti amministrativi, cioè gli atti che non sono espressione di volontà ma sono atti certificativi, non sopportano la apposizione di elementi accidentali. Pensiamo ad esempio all'assurdo di una certificazione di nascita sottoposta a condizione sospensiva, c'è qualche cosa di illogico in queste due indicazioni. Aggiungiamo per concludere che gli elementi accidentali devono essere possibili e leciti. Una certa tendenza giurisprudenziale aveva inizialmente stabilito che gli elementi accidentali illeciti o impossibili si consideravano come non apposti. Ma più recentemente il Consiglio di Stato ha considerato annullabili, quindi viziati da illegittimità e quindi annullabili, gli atti amministrativi ai quali erano stati apposti degli elementi accidentali illeciti. Quando però si poteva dimostrare che la pubblica amministrazione non avrebbe emanato tali atti se avesse avuto precisa cognizione della illicità di questi elementi. Questo è un aspetto complesso, lo riprenderemo in seguito. Comunque il punto essenziale è che gli elementi accidentali, la regola è che devono essere possibili e leciti. Con questo noi abbiamo concluso l'aspetto degli atti amministrativi che costituiscono, come abbiamo detto, come un blocco unitario, dove abbiamo gli elementi che tengono assieme, come dei nodi, gli elementi essenziali e gli elementi accidentali. Questo costituisce l'espressione della volontà o della dichiarazione di scienza della pubblica amministrazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.